Diti un commento sulla partita Guarda il primo tempo era arrabbiatissima Perché erano l'M e l'M Perdevano la palla Ma nel secondo tempo si sono riscattati Tre punti importanti dopo la sconfitta col Frosinone Esatto Quindi come hai visto i nuovi? Ammarì è entrato Benissimo, bravo, veramente bravo Grazie Diti, saluta i tifosi Grazie, ciao belli Siamo qua all'uscita del comunale dopo la partita in Tella Vellino Volevamo un commento appunto dai tifosi Come è stata la partita? Discreta, calcolando che era prima di in casa E' andata bene Se segna Cutolo il primo tempo andava meglio Comunque C'è soddisfazione quindi Soddisfazione tanta Un saluto ai tifosi Sempre a tutti e forza Entella Arrivederci, grazie Un commento sulla gara dell'Entella? Mi sembra che la squadra sia un po' migliore rispetto all'anno scorso C'è un po' di movimento, c'è da lavorare Possono avvenire buoni risultati E' importante vincere in casa la prima? E' importante salvarsi e far divertire gli spettatori e fare un buon campionato Ho la prima o l'ultima, l'importante è dare un po' di spettacolo Grazie di essere qui Un commento sulla partita? Molto bella Mi ha fatto piacere Mi sono piaciuti molto anche i nuovi acquisti Anche come gioca per essere la prima partita Veramente molto contento Dopo la sconfitta col Frosinone serviva una bella vittoria? Si, beh ci sta, è la prima partita Però molto convincente Molto positivo per il futuro Grazie